Cioè non ci sono comunque all'estero, tra l'altro pure a Madrid, in Spagna la situazione se proprio vogliamo vedere i numeri è pure peggio, ci sono delle proteste, vanno in piazza, addirittura va in piazza appunto una folla di persone capitanata da Miguel Bosé, ma tutte le immagini, te le immagini una storia... Io ricordo questa canzone che mi piaceva tantissimo, mi ha fatto innamorare, è un tuffo al cuore perché eravamo tutti più giovani, avevamo molti più capelli, io almeno, anche te eh, mi sa? No ma detto questo, cioè comunque nel bene o nel male, fuori dall'Italia, la gente discute e si incazza pure, da noi poco, vero? Assolutamente, ne hai dato prova a te che ascoltavo prima come sempre, tutti i giorni, il tuo ascoltatore che chiamava dalla Svizzera, che ti diceva giustamente che in Svizzera le scuole sono aperte, cosa ti diceva? Devi giusto metterti la mascherina, e questo lo trovo anche giusto, se stai al tram, voglio dire, e devi cercare di mantenere la distanza, ma insomma, noi trattiamo gli italiani come se fossero delle persone che appena vedono un'altra persona, gli salvano addosso, e scusa il termine, lo limonano Limonano duro, sì sì, vai al limone duro Tutti abbiamo l'interesse a stare distanti l'uno dall'altro, cioè, non credo che uno può stare a contatto con le persone che ama, però c'è questa mancanza di fiducia nei confronti degli italiani e dei giovani, in particolare, che veramente disturba, e sinceramente io non riesco a comprendere, a capire, sulla base di quali dati questo governo abbia preso questa folle decisione di chiudere i locali, poi, la ripeto, c'è questa storia dalle 18 alle 6, se tu sei in piazza, Tu devi tenere la mascherina se c'è l'assembramento di giorno o no, vabbè, ma lasciamo perdere sta cosa, ma io continuo a guardare i numeri, ripeto, continuo a guardare i numeri e allora noi abbiamo oggi, ripeto, 55 persone ricoverate in terapia intensiva, nel momento della maggiore criticità, quando c'era l'emergenza, erano 4 mila, cioè, oggi abbiamo 700 persone ricoverate in ospedale, erano 28 mila, quindi dov'è l'emergenza? Cioè, non comprendo, cioè, oggettivamente, la comprendo, la comprendo, la comprendo, la comprendo, la comprendo, la comprendo. Quelli che sostengono l'emergenza dice, sì, aspetta che poi ci ritorniamo, ecco, praticamente questo giorno. Ah, certo, io ti do una notizia che, purtroppo, prima o poi, ci sarà un terremoto in Italia, perché noi sappiamo che l'Italia, purtroppo, è un paese civico. Ho studiato geologia, parli di corda in caso dell'impiccato, proprio. Sì, certo, è ovvio, non è un'ipotesi, è una cosa certa, certo. Beh, allora, che facciamo? Facciamo lo stato d'emergenza, perché fra, non si sa quando, purtroppo arriverà un terremoto. Sappiamo che ci sono terremoti, dobbiamo conviverci, così come dobbiamo convivere con il virus, cioè, ma che progresso è questo? Cioè, abbiamo fatto tutto questo progresso, per poi, per cosa? Cioè, trovo tutto veramente, maledettamente, antiscientifico. E il bello è che sono quelli che professano la scienza, che sono... Alcuni, non tutti, alcuni, non tutti, perché, per esempio, c'è il professor Bassetti che dice, ma basta, costa questo terrore, l'allarmismo. Alcuni, Stefano, tutti quelli che curano i pazienti, tutti i medici che curano i pazienti, non come dice Bassetti, giustamente, miracolati, miracolati, perché c'è una classe di sedicenti esperti che è stata miracolata da questa storia del Covid. E quindi vai in televisione a dirci, poi scopri, a dirci che c'è una tragedia, che è quella e arriverà alla seconda ondata. Poi scopri che queste persone non hanno mai curato un paziente che è uno, chiaro? Mentre invece, noi che parliamo con i medici che il Covid lo hanno curato, che dicono che allora c'era un'emergenza. Ora l'emergenza sanitaria non c'è, c'è un'emergenza economica, però di cui però questo governo non si preoccupa, perché si inventa le emergenze sanitarie. Quando c'era l'emergenza sanitaria, non era in grado di gestirla. Ora che non c'è, se la inventa per nascondere l'altra emergenza vera, quella economica. Allora, Federico, tra poco in regia video, tra poco mandiamo un video che fa capire un po' dei miracolati. Perché io ho cognizione precisa di alcuni piccoli centri dove sono state spese delle cifre incredibili, stiamo parlando di centinaia e centinaia di migliaia di euro per sanificare le strade, l'asfalto delle strade. No, ce n'è una delle superadulte. No, aspetta, infatti l'ho visto, l'hai pubblicato. Allora, attenzione, ce ne andiamo sulla spiaggia di Messina, dove addirittura sono arrivate le squadre di sanificazione della sabbia. Della sabbia, cioè della spiaggia, dove ci hanno detto che il sole, il mare, il sale distruggono il virus in mille secondi. Là ci buttano i disinfettanti. Fai vedere, Federico? Eccolo qua, guardate. Accendete l'app se non ci credete. Sulla sabbia, a Messina, buttano i disinfettanti. Sentite il rumore degli spruzzini. Dovete accendere l'app, mi raccomando, guardateci in televisione. Il splendido mare, che tra l'altro sta roba finisce in mare e fa male. No, ma dentro di più contro te, scusami, ma voglio dire che chiunque vada sulla spiaggia sa che durante il giorno, alle 11, prova a camminare sulla... È possibile, sono 60 gradi. Nel senso che la sabbia raggiunga temperature da 70, 80, tipo come corri, per andare... Il virus però resiste, secondo questi. Ma in realtà qua ci sono... Questi, adesso, non loro che spruzzavano sulla sabbia, ma i titolari delle aziende sono miracolati del Covid, perché stanno facendo a caro prezzo qualcosa di assolutamente inutile, che però viene richiesta dall'amministrazione comunale. Io conosco personalmente piccoli centri in cui sono state spese somme che non erano mai state spese per disinfettare l'asfalto. L'asfalto, anche sull'asfalto si raggiungono... È nero l'asfalto, quindi è ancora peggio della sabbia che è chiara, no? Si raggiungono temperature che sono insopportabili per qualsiasi forma di vita, eppure sono stati sparsi disinfettanti sull'asfalto a carissimo prezzo. Cioè, usiamolo il cervello, dai. No, usiamolo veramente il cervello. Siamo alla più assoluta follia e quindi, ripeto di nuovo, c'è una narrazione dell'emergenza sanitaria che fa terribilmente a cazzotti con la realtà. Io devo dirti una cosa, perché ieri è stato pubblicato l'ennesimo fatto di cronaca sanitaria a strappacuore. E giustamente perché c'è un bambino a Padova che è stato ricoverato a causa del covid. Forse, attenzione, forse, non si sa, la cosa bella è questa, è una cosa brutta, non lo so. Non si sa, perché poi ulteriori notizie danno la probabilità, pubblicata anche dal Corriere della Sera, che forse si tratta di... Allora, lui ha risultato positivo al covid, al coronavirus, ma quel tipo di infezione ai reni e non so a che cosa, all'intestino, eccetera, eccetera, risulterebbero più probabilmente provocati da un batterio, da un'infezione gastrointestinale. Quindi, può essere che non sia. Ma quello a cui volevo arrivare era proprio questo, perché ieri mi sono trovato a parlare con un amico, un bravissimo giornalista, e quindi a un certo punto gli ho detto, ma scusami, ma lo sai quanti sono i pazienti minorenni, minorenni, deceduti a causa del covid o con il covid? Quattro. Su 35 mila. Quattro. Quattro, è chiaro? E sempre lo stesso giorno in cui veniva pubblicata questa notizia, così casualmente il sottoministro Baretta se ne esce con... Aumentano i montaggi, dobbiamo prendere il MES. Cioè, quindi, giustamente, dobbiamo prendere il MES, i soldi del MES, dobbiamo metterci in mano al MES perché aumentano i contagi. È un po' la ricetta di tutti i giorni, copriti, copriti, devi prendere il MES perché sennò aumentano i contagi. Cioè, come si fa a non vedere che siamo in presenza di una manipolazione immediatica clamorosa?